Faccio l'angolo dal sinistro per il palo. Coppa di testa fuori di un niente. Senta sconfitta, Sherry, c'è la palla per Alosin, colpiattone. La sua, la gran giocata di Ciccone che va via qui, Ciccone, Ciccone è lato colto. C'è Adesio Boy, da lì può anche provarci. Adesio Boy, carica il sinistro, non è male. Arriva in qualche modo Mastro, ancora a Palma, però con Adesio Boy, ma ancora a Esposito. Li mette all'azione offensiva, Mauri. Di parte il solito Ciccone, occhio Saber, smette il piede Sal, palla che resta lì, Coric con i pugni, non benissimo. Ciccone ancora, Mauri, tosto su cui è contrasto, salva tutto, Mauri gli dice prendila, con le due mani la palla, caro Marian. Pesci, di fisico, se ne va, vince, anche un contrasto, attenzione per Kovic, è fermato. Pesci, Pesci, cross, buona, Coric, palla che resta lì, pericolo, ci salviamo sulla linea alta. Adesio Boy, adesio Boy, limite, cerca il sinistro. Palla per Lombardi, per la città, Lombardi, diagonale, in due tempi, ancora Sherry ci arriva, la salta, Piergi verso un po' troppo elissima. Bella trama, i soliti tre, Sherry, Anasi, Lombardi. Siamo a sottoquarti, irrevedibile un costo dentro, pesa la palla, sale in Cespi, che è il tiro. Mauri morbido dentro, che passava un po'. Sipo, ora per Rosetta. Sipo, può puntarlo, Sipo, Sipo, Sipo. Sipo, 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 Sipo.